ciao a tutti oggi vorrei farvi vedere un piccolo lavoro che ho fatto per uno swap legato alla costruzione di un piccolo album che si chiama gratitude per permettere alle persone di scrivere delle frasi di gratitudine nei confronti dei momenti che stanno passando della loro vita questa è una sovracopertina che si apre di qua ma io per comodità la apro la sfido in questo modo dentro c'è anche una piccola questo poi lo vediamo dentro c'è anche una piccola tag che serve da segnalibro e questo è il l'album o mini album di gratitude è stato fatto con media mix quindi realizzato con timbre con colori con con apporti di vario tipo e è stato realizzato mettendo insieme due carte diverse una carta che vedete qui che è molto marina con le barche è un'altra carta che vedete anche qui coi disegni cashmere quando apro questo album subito posso vedere che si sfoglio le pagine ma in realtà le pagine sono piegate a fisarmonica adesso le vedremo una per uno quindi apro a scusate ogni pagina ha la possibilità di scrivere una frase o una parola l'ho lasciato volutamente libero quindi c'è qualche piccolo input ma in realtà poi chi lo riceverà deciderà cosa scrivere dove scriverlo andando avanti vedete che si apre qui c'è uno spazio e qui ci sono dei dei piccoli memo tac che si possono sfogliare dall'altra parte c'è una piccola busta sulla quale si può poi scrivere nel cartoncino una sorta di di piccolo segreto e qui vedete che ho fatto ho inserito un bosco anche questo corolla colorando e acquarellando aprendolo ancora si apre vedete in lunghezza e qui c'è una piccola parte con dei post it a forma di gatto e poi come sempre gli spazi gli altri spazi per scrivere questo è il retro lo chiudo lo rigiro scusate ma c'è anche la parte interna chiamiamola così quindi vedete qui c'è ancora tanto spazio anche qua qui di nuovo la bustina e qui dove c'è la casa c'è di nuovo un piccolo memo tac quindi diciamo che si chiude in questo modo vedete e però c'è la possibilità di scrivere anche sul retro è stato poi abbellito con piccoli apporti come questo la rete una una piumetta gli stickers le cose colorate i timbri i nastri quegli adesivi colorati insomma un piccolo lavoro per parlare della nostra gratitudine nei confronti della vita spero che questo video vi sia piaciuto magari vi abbia anche ispirato vi mando un grande abbraccio vi ricordo se già non l'avete fatto di iscrivervi al mio canale di mettere un like di commentare di interagire con me io sono sempre pronta a rispondere per oggi vi saluto e al prossimo ciao a tutti love su rabbi ciao 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 ciao